PURE INTELLIGENCE TRAINING PURE INTELLIGENCE TRAINING Ma dove viene l'infarto? Così faccio la festa e magari sporro sulle vostre cose PURE INTELLIGENCE PURE INTELLIGENCE PURE INTELLIGENCE PURE INTELLIGENCE PURE INTELLIGENCE Ok, metto l'auto e l'atmosfera Ma perchè l'auto? Che cos'è amica? Per fare atmosfera Ma chi sei? Run No capito FLECH 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 FU Ehm Ehm HALO NO 1 2 Ehm ... ... ... ... ... ... ... ... Ehm, questo daemon lo dedico a tu Roy Moonstie Ho finito, eh, to the grave, baby Tanto a lui non gli hai detto zitto Stai zitto? Ah, mettiamo like perché dai, mi fa pena, 11.000 la- dislike, tipo 464 ha detto Come cazzo è zitto? Non lo so, fratello mio Come cazzo è zitto?